Il 21 marzo non è soltanto la prima giornata di primavera, ma è anche la giornata in cui si ricordano le innocenti vittime della mafia. Uomini, donne, bambini, comuni cittadini o uomini di legge, sacerdoti o giornalisti e ancora imprenditori, esponenti politici, sindacalisti appartenenti alle forze dell'ordine, amministratori locali. Da Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, da Giuseppe Fava a Giuseppe Di Matteo e poi i piccoli Rosario Montalto e Giuseppe Cutroneo e ancora Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Falcone, figlio di mamma Carmela, dal cui dolore è nata l'iniziativa della giornata della memoria e del ricordo del 21 marzo. È lungo l'elengo dei nomi di coloro che hanno perso la vita troppo presso per via della violenta a mano delle mafie, cancro che attanaglia la società. Vogliamo ricordarli tutti, quelli di cui leggeremo il nome, quelli di cui non siamo riusciti a trovare informazioni sufficienti, recitava il volantino distribuito in piazza del Campidoglio a Roma, il 21 marzo 1996, nel corso della prima giornata della memoria e dell'impegno, in ricordo di tutte le vittime delle mafie, giornata organizzata dall'Associazione Nazionale Libera e che verrà riconosciuta e istituita solo qualche anno più tardi, con la legge numero 20 dell'8 marzo 2017. 21 marzo, per non far cadere nell'oblio e per far rivivere tramite il ricordo e la lettura dei loro nomi e cognomi, queste vittime innocenti. Un modo anche per mostrare vicinanza a quei genitori che hanno perso così spiegabilmente i loro figli e si trovano a dover sopravvivere. A un dolore così grande da non poter essere raccontato alle mogli e ai mariti costretti a trovare una nuova ragione di vita per andare avanti e a quei bambini costretti a crescere senza la loro guida più sicura. Dolore è inespiegabile, dicevamo, che però non è solamente dei familiari delle vittime, ma dell'intera società. Diverse sono le celebrazioni in questa 27esima giornata della memoria e dell'impegno e ricordo di tutte le vittime delle mafie. Tra queste l'iniziativa Terra Mia, Cultura della Terra e Cultura delle Coscienze coinvolge il comune di Mister Bianco. Questa mattina, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, alunni di terza media degli istituti comprensivi hanno letto alla presenza dei rappresentanti di istituzioni e forze dell'ordine e delle associazioni i nomi delle vittime.